ci sono io è dimmi via vai se l'ho baffa scusa sono venuto a salvare la situazione forse però non puoi andare lì sopra e sparare solo per scavalcare io penso qua dietro capito qua dove hai detto tu qua tanto ho fatto pure male ero un gigante sopra una roccia vai son pronto vai che merino hai 3 per? senti io non so che più il joystick quando muoio lo lascio lascia che ti aiuti se tu lo vuoi fare me lo dici e non lo cambio io non ho capito se tu c'è sto vizio non lo tocco però cioè aspetto proprio tu è meglio va ora proviamo a fare meglio vai eccomi pathfinder pronto a servire no devo mettere il 2 per devo mettere il 2 per ma vado a mettere il 2 per aspetta lascia che ti aiuti oh non potevo mica effettua un salto quantistico oddio ho fatto il cuore in mano ho fatto male che cosa è sta roba ma proviamo col 2 per guardami la mia ma bella sta skin è bellissima mai vista comunque è quella del pitch prime l'hanno messa da poche ore vai ci sono questa secondo me è la skin più barra del gioco come è vega oddio sembra leggendaria bellissima comunque quanto è bassa la item mamma mia quando la prendevo per sbaglio non riuscivo a sparare no rate rate è di più via no è più so più e basso è bassa entrambi pure quando sono bassa quanto rate è live vediamo se è così bene sto solo passando ma guardalo sono stato abbattuto bella bella rimuovita aspetta lascia che ti hai giusto no no comunque si col 2 per va un po' meglio da sta distanza via via ora proviamo a fare meglio sono venuto a salvare la situazione forse quando vai vai madonna ora cambio leggenda mi metto mi metto no va bene perché tanto il rampino non lo devo usare capito questa volta sarà diverso via no no No, 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 no. Sono a terra. Aspetta, lascia che ti aiuti. Non so se vede la differenza. Ma come si vedono? Io voglio sapere quanto ho giocato in totale ad Avex. Come si vede? Non lo so. Sono venuto a salvare la situazione. Non credo. Si può vedere le ore, ma io non le calcolo le mie perché sto tre ore in poligono. E col gioco aperto, quindi... Si. Si è batte, eh? Si, si. No, non ci credo. Ho sparato dall'altra parte pensando che andavi là. Dai. Eh, invece. Mi ha chiedato. Niente, è andata bene un po' con l'Arestar e l'R99. Col Crabber l'altro giorno. Con la carabina proprio non c'è costo. Questa volta sarà diverso. Sono venuto a salvare la situazione. Forse. Ora proviamo a fare meglio. No, ti vediamo solo la testa. No, ti vediamo solo la testa. No, ti vediamo solo la testa.